Non vedo l'ora di passare attraverso le vasche del mega autolavaggio che ti cambiano colore. Guardate! Prima la vasca di preparazione. Poi la spirale. Poi la vasca cambia colore. Da lì l'auto esce molto più colorata e brillante di prima. Wow! Sarà un'esperienza memorabile. Meglio dell'ultima volta che siamo stati all'autolavaggio. Buongiorno, Hot Wheels City! Tavo io, il Professor Reverso! E sono pronto a rovinare la festa dell'autolavaggio! Il Professor Reverso vuole sguinzagliare un altro mostro in un altro autolavaggio? Ci ha già provato una volta. Dici? Ah, ecco perché il piano malefico mi sembrava familiare. Beh, questa volta funzionerà! Grazie al mio famelico squalo, ci piace! Oh, al mio squaletto piacciono le auto dai colori vivaci. Vai, va a dare un'occhiata più da vicino. Ragazzi, dobbiamo fermare quello squalo! Sfida città! Sfida città! Io scelgo la Sorpenters! Io prendo il Duta! Io scelgo la Rocket Spaglia! Io prendo la Ristorante! Non c'è tempo da perdere! Devo sbrigarmi a portare quello squalo fuori dal mega autolavaggio! Sto arrivando! Oh no, 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 no! Così mi sfriderò! Coop, stai bene! Rispondi! Tutto bene, Bryce? Sta per uscire! Sta per uscire? E come pensa di farlo? Ecco come! Ripugnante! Ricordatevi di non farlo più! Ma almeno posso provare la vasca cambia colore! Che bella la Riaud!